Oggi parliamo di qualcosa che non c'è più. Nonostante Bologna offra così tanto, purtroppo oggi andremo a parlare invece di qualche cosa che non riesce più a offrirci. Questa triste storia risale a circa 100 anni fa, diciamo la conclusione di questa storia, mentre l'inizio risale ai tempi delle torri di Bologna. Bologna era una città ricchissima di torri, è noto credo a chiunque, non sappiamo esattamente il numero, ma probabilmente furono circa un centinaio di torri nel momento di massimo splendore, stiamo parlando circa del 1100, più o meno il periodo in cui avremo la maggior fioritura di torri. E anche in questo luogo, nella piazza della mercanzia, esistevano alcune torri che lentamente furono coperte dalla costruzione di altri edifici che a poco a poco nel corso dei secoli vennero costruiti e quindi si andarono a sovrapporre in questo tessuto che non era così netto, così definito, così pulito come lo possiamo vedere noi uomini del XXI secolo. E quindi succede che Bologna, tra la fine dell'Ottocento, del 1800 è doveroso, e l'inizio del 1900 comincia a avere una voglia, una smania, di diventare una specie di metropoli. Si è sentita per tanto tempo soffocata, non è riuscita a ritrovare i fasti dell'antica università, dei fasti duecenteschi e quindi ha voglia di ridiventare una città al centro dell'Europa, una città moderna. E quindi decide di operare con tutta una serie di sventramenti. Quello che antico non piace più tanto, si vuole fare qualcosa di nuovo. E una delle cose principali che vengono fatte è quella di allargare le strade. Si cominciano a battere edifici, si cominciano a creare nuovi spazi. Questa è una delle zone che viene più colpita. C'è l'idea di grandi banche, di grandi assicurazioni, di creare i loro nuovi quartier generali, come per esempio qua. E allora si comincia a battere tutto l'antico tessuto di androne, di vicoli, di vecchie case e appunto anche di torri. Mentre si comincia a buttare giù, sorpresa, sorpresa, saltano fuori tre torri. Artemisi, Guidosagni e Riccadonna. Tre torri che si trovavano esattamente qui, in questo spazio, compreso Piazza della Mercanzia e Via Caprerie. Che facciamo? Fermiamo immediatamente le ruspe e cerchiamo di capire che fare di queste tre torri. Non erano torri banali, andavano dai 16 ai 25 metri. 25 metri era già una discreta altezza. Voi provate a pensare cosa sarebbe stato quest'angolo con le due torri lì, la torre Alberici lì, altre tre torri qui. Sarebbe stato veramente una vista meravigliosa. Quindi si creò questo grande dibattito, questa grande questione bolognese. Ma ahimè, come potete vedere guardandovi intorno, potete immaginare chi prevalse in questa definizione. Alla fine, the show must go on, lo spettacolo dovete andare avanti. Lo spettacolo in questo caso era l'abbattimento del vecchio per costruire il nuovo. E quindi le nostre tre torri, Artemisi, Guidosagni e Riccadonna, vennero tristemente abbattute per creare dello spazio e per creare questi nuovi edifici moderni. una piccola fetta di Bologna che purtroppo oggi non possiamo più trovare.